Gli alpini della sezione di Varese hanno dimostrato ancora una volta in questo periodo l'importanza del volontariato. Sì, purtroppo questa pandemia se ci ha un po' divisi, purtroppo perché ha creato questi grossi problemi, dall'altra parte però gli alpini sono stati molto uniti in questo brutto momento e come sempre abbiamo aiutato chi aveva bisogno di aiuto come appunto gli ospedali, RSA eccetera. Abbiamo fatto una raccolta fondi, con questa raccolta fondi abbiamo acquistato tantissimo materiale medicale ed è stato appunto distribuito sui vari ospedali del territorio oltre appunto come RSA. Il valore alpino, come lo chiamiamo noi, per gli alpini niente è impossibile, quindi ci siamo veramente date da fare e tutti i nostri 78 gruppi hanno veramente lavorato a fondo per poter dare una mano alla società e a tutti quelli che appunto avevano bisogno.